Qualche anno fa sono uscito con un libro per la Epli che si chiamava Stampa 3D Stazione Futura, quindi un titolo un po' lasciava il tempo che trovava insomma. Si perde un po' nel mare dei manualetti per la stampa 3D anche perché non aveva molte pretese, era veramente un quadernetto per spiegare che cos'è la stampa 3D. Sono scaduti i diritti, la Epli non mi ha più detto niente, quindi avendo carta bianca e potendo farne quello che volevo, ho ripreso il testo originale e gli ho dato una nuova forma. Ho creato un librettino che si chiama Mini Guida Galattica alla Stampa 3D Open Source con la pretesa di essere una mini guida della stampa 3D in cui parlo delle tecnologie di stampa, ho preso i testi originali e li ho approfonditi, li ho arricchiti, ho messo più contenuti, infatti è quasi raddoppiato perché quello di prima era in centinaia di pagine e questo arriva a 240 pagine, parla di tutte le principali tecnologie di stampa 3D, quindi non solo l'FDM ma la stereolito piuttosto che anche il jetting e le sinterizzazioni e vi fa vedere anche come progettare, quindi ci sono alcune pagine che spiegano sia nel dettaglio il processo proprio di stampa con i vari passaggi, l'uso degli slicer e anche delle informazioni utili per chi vuole progettare, quindi che accortezze tenere quando si vanno a fare dei progetti, dei disegni in 3D che poi vanno stampati. Questa volta il libro è autoprodotto quindi lo trovate su Gumroad in PDF, potete scaricarlo, ha un prezzo penso accessibile, mi pagate un cappuccio e una brioche e sono riuscito a farlo anche in versione cartacea e l'ho trovato su Amazon, lì costa un po' di più perché ovviamente c'è la parte di carta, tenete presente che in questo modo però diciamo mi aiutate perché tutti i proventi nel caso del libro stampato comunque c'è una gran parte di materia prima, quindi di stampaggio di carta che vanno ad Amazon, tenete presente che sugli altri libri che escono nel canale standard tramite editori a me resta 7-8% lordo del prezzo di copertina, quindi non del prezzo del libro, quindi su quello poi ci devo pagare le tasse, immaginate cosa mi può restare, quindi in questo caso cerco di farli in autoproduzione, spero che sia più apprezzato, diciamo anche come discorso open. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo presto, ciao!